Buongiorno dal Tg della Mobilità. Manutenzione estiva sulla linea B della metropolitana sino al 23 agosto. La stazione Orfermi sarà interessata da lavori di rinnovo e per questo la linea viene limitata a Eur Magliana. Da qui a Laurentina il collegamento è affidato alla linea bus sostitutiva MB4. Nel percorso i bus fermano a Viale di Val Fiorita, in Viale Europa, in Viale dell'Arte e in Viale America, in base alla direzione e infine sul piazzale davanti alla stazione Laurentina. E in tema di cantieri sulla rete del ferro, sulle linee regionali, sono in corso i lavori sulla tratta Roma-Cassino e dunque sino al 30 agosto sarà interrotta la FL6 tra Ciampino e Colleferro, mentre sino al 23 agosto la linea FL4 tra Ciampino e Frascati, in entrambi i casi con modalità diverse in base alle settimane previsti bus navetta sostitutivi. Per il momento è tutto, un saluto dal Tg della Mobilità. Per il momento è tutto, un saluto dal Tg della Mobilità.